guardate che spettacolo si continua a vedere questo percorso quindi ragazzi se qualcuno vi dice ma no nell'europa non esiste una cosa del genere che so queste cose di questi ciclabili esistere come eccola qua pure con la montagna la neve è proprio bello quello che vedete in fondo un paese storico che si chiama scusate che sto quasi senza fiatto perché c'era una bella salitina colmenar viejo eccolo la come vedete sempre isolata dal traffico questo bellissimo percorso con carreggiate molto larghe la segnaletica pure precisa tenuta bene c'è qua per quelli che chiamano le ruote quelle fine è uno spettacolo ragazzi è uno spettacolo vedete che tutti salutano cioè tutto il traffico passa sopra oppure la ciclabile passa sotto c'è proprio un'opera fatta bene quindi regà esistono queste realtà un invoca al lupo per tutti coraggio con la pubblica amministrazione avanti avanti e buon anno a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.